Buonasera a tutti, oggi è venerdì 23 settembre, sono le 23.08 e ci apprestiamo a fare un'altra analisi evoluta su Bitcoin. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati che abbiamo fatto un primo ciclo settimanale con il secondo ciclo settimanale che potrebbe ancora essere in vita e cercare un minimo. Ci siamo vincolati perché siamo andati sotto i 18.549, qui 210 e 256 e quindi abbiamo vincolato tutto il resto di questo movimento chiamato T più 2 ovvero onda mensile a ribasso. Quanto tempo dura o non da mensile? Minimo 24 giorni e noi siamo a 17 e ne mancano 7 di giorni in cui alternerà salite e discese ma torneremo sotto questi minimi. In media 32 al massimo 43, quindi attenzione perché se siamo a 17, per arrivare a 32 mancano 25 giorni, per arrivare a 43 vi fate il conto, sono 26. 26 giorni di possibile rimbalzo del gatto a morte e discesa, rimbalzo del gatto a morte e discesa, rimbalzo del gatto a morte e discesa, rimbalzo... Ok, se ho chiarito la questione, dato che non abbiamo superato questo massimo, non abbiamo vincolato che cosa? Il nuovo ciclo settimanale inverso, quello che parte da massimi e va su minimi, il contrario del ciclo normale che parte da minimi, va su massimi e torna su minimi, quindi non abbiamo vincolato questo ciclo a proseguire una salita. Ormai a swing e a tempo siamo tranquilli che da qui può essere partito appunto un nuovo T inverso, abbiamo le condizioni per la sua partenza. A questo punto poi iniziamo a fare le varie riflessioni, perché innanzitutto, come detto, qui ormai siamo a 97 giorni e quindi siamo a un semestrale. Un raccordo semestrale potrebbe essere soltanto tra un T più 8... no, tra un T più 7 e un T più 7, tra un ciclo che dura minimo 3 anni e al massimo 5. Abbiamo prima un T più 7 e basta, non un T più 8? Come vi dicevo la scorsa volta, dovete andarvelo a calcolare voi. Tanto è facile, basta utilizzare tempi e le regole che già conoscete. Se avete ricevuto gli appunti chiedendoli a info-financialarmor.eu Questo è l'unico canale ufficiale a cui chiedere. Non chiedete su Facebook, non chiedete con messaggi privati, non chiedete da altre parti. Chi si spaccia per me su Telegram mi ha rubato nome e cognome e immagine. Telegram per ora non è un canale su cui lavoro. Lavoro su YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Up and Down. Le mie analisi finiscono anche su Investing. Ok, spero di non aver dimenticato nessuno. Investing tra l'altro sia app che sito, quindi potete andare anche a vedere tranquillamente lì le analisi. Sull'app è molto comodo tra l'altro. Telegram per ora no. L'unico modo per tutelarmi sarà creare un canale mio su cui rimettere le analisi anche lì. Ma non sono su Telegram. Ci tengo a precisarlo perché questa persona che spero che a un certo punto paghi per quello che fa prova a vendere pacchetti di criptovalute. Io non vendo niente. Ritornando a noi, ricordiamoci una cosa. Quanto può durare al massimo un tp4 semestrale? 168 giorni. Noi siamo a 97. Quindi potremmo avere un semestrale che peraltro è composto tra anche solo tre tp2, ovvero a tre tempi? Primo mensile tp2, secondo mensile tp2 e terzo? Assolutamente sì. Altra cosa che voglio dire prima di andare avanti. Ah, l'andamento di Bitcoin è uguale a quello dell'S&P 500. Sicuri? Aspettate, ve lo faccio rivedere. Qui abbiamo avuto discesa, poi salita fortissima con quasi il recupero dei massimi e poi discesa. Ma siamo rimasti in questo range. S&P 500? Discesa, salita e tonfo. Tonfo clamoroso. Tonfo disastroso. Veramente disastroso. Non ancora disastroso quanto quello fatto su DAX. Su DAX abbiamo combinato una cosa divertente. Essendo scesi sotto i 12.200, abbiamo creato anche qui un mensile ribassista. Non soltanto quello. Questo minimo quanto è? 12.390. E io ho detto che siamo arrivati a? Qua. Quindi abbiamo vincolato potenzialmente tutto questo nuovo annuale con primo trimestrale a 57 giorni, ovvero sopra i 48 a ribasso. Qui manca la candela di oggi, lo ricordo sempre. Chissà se questa volta sarà il DAX a tirare la volata anche eventualmente su una crypto. Ma guardate le differenze, qui siamo a 97 giorni, questo è un semestrale. E questo è un TV3 trimestrale. Se volete vi faccio anche vedere S&P 500 perché... Carica. S&P 500. Eccolo qua. Guardate dove siamo. 3636, 3647. Siamo a un passo dal vincolo su un annuale. Vincolo ribassista. Un annuale dura minimo 192 giorni. Noi siamo a 68, quindi il rischio di vincolarlo a ribasso. Il rischio è estremamente possibile. E' uguale questo grafico a questo? No. Direi proprio di no. Ma proprio no. Come tempi oltretutto, di nuovo anche qui, sono molto diversi. Anche qui però, similarmente, ma con una forma estremamente più ribassista, abbiamo un T più 2 ribassista. Qui un po' di rassuccio il grafico. Davvero un po' diverso. Peraltro, come detto, hai cacciatori di similitudine. Ricordo sempre che quando poi i rapporti si slegano nel breve, auguri e figli maschi. Perché qui siamo in due situazioni totalmente differenti. Allora, che cosa facciamo a livello operativo? Ecco, dato che domani non so se riuscirò a fare aggiornamenti particolari, preferisco fare un aggiornamento molto operativo ora e facciamo varie considerazioni. Ho cercato un miliardo di centrature tra questo minimo e questo minimo. Ci sono sempre 53 barre. Si può arrivare qui. Si possono ipotizzare un miliardo di centrature differenti. Per ora mi tengo questa, che purtroppo è solo a 23 barre. Abbiamo riscoltrato già in passato che eventualmente un T-3 può durare anche solo 23 barre, non 24. In questo momento me la tengo buona per il fatto che in questo caso facciamo una candela in meno rispetto alle 24, come succede spesso su altri mercati. Qui andiamo a 30. Da qui sembra che sia partito l'ottavo T-3. Se andremo sopra questo massimo a 19.084 dollari ne avremo la conferma. E quindi abbiamo varie cose interessanti da raccontarci, a parte questo raccordo inverso, che di nuovo anche qui hanno proprio cercato di fare male, farci male, ok? Vi ricordate dove era messo dopo 25 barre il secondo T-3 inverso? Ok, violazione. Io vi ho detto io non vado a rialzo. La situazione non mi fa venire alcuna voglia di andare a rialzo. Qui abbiamo fatto 21 barre, sempre provando ad aggiornare i massimi, non di tantissimo rispetto a qua, però comunque trade fattibile. Dopo 21 barre, crollo. E uno dice ok dai, aspetto le 43 barre, ma da qui, aspetto le 43, aspetto le 44, o parte un HFT adesso e torna come minimo qui sopra, oppure aspetta e spera che verrà sera. Quindi ci vuole anche sempre l'esperienza di chi sa leggere il suo metodo, l'evoluta. E di chi sa che quando ci sono determinate tendenze, esattamente come evitavo di andare long in passato, e vi ho evitato di andare long e di suggerire long nel gruppo premium anche per il gruppo, e guarda caso, non ci siamo presi una gran bella legnata sulla testa. Prendendo le 23 barre, ok, ho un settimo T-3 che può aver chiuso qui, ma può avere ancora tempo, d'accordo per, la conferma vi ho già detto quale serve per la partenza di un nuovo T-3, qui saremo però a 40 barre, se arriviamo a 44, arriviamo alle 2 del mattino, se non facciamo cose strane prima delle 2 del mattino e poi, solo dopo la 44esima barra, andremo sotto il minimo a 18.551 dollari, ecco lì, lì uno short me lo provo. Me lo provo eccome. perché? Per il fatto che se prima andiamo a fare ancora un top, ci facciamo una 24esima barra superiore, o una qualsiasi barra successiva, la 24esima superiore 18.960 dollari, e poi scendiamo, abbiamo la conferma della chiusura dell'inverso, secondo T-3 inverso, abbiamo la conferma della partenza dell'ottavo T-3, se andiamo anche qui sopra, e poi se torna sotto, prima delle 24 barre, prima delle 23 possibilmente, visto qualche successo, ecco finalmente uno short ci sta, ci sta anche un tecnica 2, ok, da questi livelli, se li rirraggiungiamo di nuovo, ovvero media mobile a 50 periodi, però guardate come si muove la candela, non appena la tocca short, ok, descrivo come ci si muove nel gruppo premium, o eventualmente quella qui sopra, con i livelli inclusi della, della cumo, ecco questi possono essere dopo, o dalla 24esima barra di inverso, dei punti da cui eventualmente valutare, appunto un movimento a ribasso, e quindi uno short. Non abbiamo ancora sciolto, l'inghippo del T settimanale, è partito da qui? Oppure abbiamo fatto, 10, 11, raccordo e partenza di nuovo settimanale? Ecco, io in realtà, continuo a pensare che sia da qui, perché da qui ci sono tutte le condizioni per la partenza del settimanale, e come vedete è una roba, pasticciatissima, tra appunto, fed, movimento totalmente riassorbito, e, che non ha causato nessuna variazione per il medio periodo, come vi dicevo, e tre streghe, quindi le abbiamo prese tutte per muoverci in maniera strana. Poi però, ah già, questo lo posso togliere finalmente, possiamo liberarci di questa ipotesi, perché ci è bastato questo top per andare a chiudere il settimanale inverso, poi, però ripeto, la tendenza è quella che ci diciamo, 17 barre su minimo 24 di durata del T più 2, già vincolato a ribasso, se non parte un T settimanale, se non è partito da qui un T settimanale, che magicamente ci riporta su, continueremo piano piano a scendere ad aggiornare i minimi. Quindi bisogna fare attenzione sempre al ritorno sotto questo minimo a 17.605, per cui, se questo non potesse essere un raccordo, avremo un annuale già estremamente brutto, vincolato a ribasso per tutto il resto della sua durata, adesso siamo a 97 giorni, quindi la durata minima è 92, quindi per oltre 100 giorni di discesa. Se escludiamo, la possibilità di raccordo. Possiamo escluderla? Avete fatto i conti? Ecco, ve li lascio fare. Direi che tutte le indicazioni molto operative e precise ve le ho date. Domani tengo un bel corso, non so più se tenere questi corsi o meno, perché vedo delle cose che non mi piacciono, e quindi preferisco ragionare su tutto ciò che sta per cambiare, appunto, dall'evoluta alla metodologia a tutto il resto. Occhio agli allami che ho già dato su Nasdaq, persino prima della Fed, e poi è successo quello che dicevo prima della Fed, e su tutto quello che vi ho raccontato nelle ultime analisi. Ricordatelo sempre, tenetevelo sempre a mente, perché il rischio è di continuare a venire giù molto molto malamente. Vi ringrazio per il vostro tempo, buona serata a tutti, arrivederci.